domenica permangono condizioni di moderata instabilità mentre lunedì un nuovo impulso perturbato interesserà l'italia centro settentrionale domenica 16 novembre in toscana nuvolosità irregolare a tratti intensa associata a rovesci sparsi e occasionali temporali le precipitazioni saranno più frequenti sulle zone di nord ovest e su quelle meridionali venti di libeccio moderati nell'interno fino a forti lungo la costa mari molto mossi temperature pressoché stazionarie sulla provincia di lucca tempo variabile con pioggia alternata schiarite nella piana temperatura minima prevista 10 massima 14 gradi in versiglia minima 15 massima 18 in garfagnana minima 9 massima 18 gradi